Questa opera scaturisce da un progetto di ricerca del MIUR avviato nei primi anni Ottanta e realizzato in alcune classi di scuola elementare con la guida di Maria Arca, Paolo Mazzoli e Nicolina su capane. I risultati di questa sperimentazione sono stati tradotti in linee di lavoro adatte a sviluppare nei bambini fin dai primi anni di scuola interesse, competenza e attenzione per i processi biologici. Foglie, fiori, semi, uova, animali entrano in classe, richiedono attenzione e cura, suggeriscono di notare somiglianze e differenze tra diverse strutture, anche nei processi di sviluppo e di crescita. Toccare, fare, parlare, pensare, immaginare, riflettere su quello che succede e su quello che si dice. Ogni osservazione, ogni esperienza viene accompagnata da un parlare di biologia, necessario per cominciare a pensare di biologia, a comprendere relazioni e funzionamenti, a mettere consapevolmente ordine nella molteplicità delle fenomenologie biologiche. 13 capitoli in questa seconda edizione rivista e ampliata, una guida preziosa per chi insegna scienze nella scuola primaria o si sta preparando a farlo. Un progetto che viene da un passato straordinariamente attuale, in cui si approfondiscono il significato disciplinare e la valenza formativa. Grazie a tutti!